Questo è il programma di quest'anno, ma come forse già saprete lo porterete all'esame con un altro insegnante perché il provveditorato di Roma, monta sua, ha finalmente dato ascolto alla mia ennesima e credo sacrosanta richiesta di trasferimento del sottoscritto. Per congedarmi da voi però voglio dirvi una cosa, che tutte le ore passate insieme in quest'aula, tutte le giornate trascorse qui sono state le più inutili e deprimenti della mia vita. Mi domando perché abbiate perso tanto tempo a venire in una scuola che di per sé non serve a niente. Ma in particolare per voi, voi 20, 21, quanti siete? Che a mio modesto parere siete assolutamente e irrimediabilmente inadatti a qualsiasi tipo di apprendimento. Concludendo, siete una delle peggiori e più avvilenti esperienze che si possano augurare a un insegnante. E se permettete, voglio dirvi un'altra cosa.